Sabato 1 ottobre apre il nuovo centro vaccinale anti-covid della città di Pesaro. È stato allestito negli spazi dell'auditorium di Via Toscana appartenenti a Marche Multiservizi che proprio ieri ha tenuto una conferenza stampa prima di dare la disponibilità della struttura al servizio della comunità pesarese sprovvista di un hub dallo scorso giugno. Periodo in cui la proprietà dell'ex-resto alla Rossini Center è tornata a riappropriarsi dei locali come d'accordi con l'area vasta 1. Dopo mesi di ricerche di soluzioni alternative ammorbidite dall'onda più bassa della pandemia da ottobre si parte dunque con la nuova struttura che si affiancherà ai punti vaccinali di Fano e di Urbino che non hanno mai cessato le loro funzioni. È stata una scelta, l'amministratura ha avuto questa intuizione e l'ha comunicata al comune di Pesaro perché c'è questa disponibilità. Non ci priveremo sempre perché ci siamo riservati eventualmente qualche momento particolare dove abbiamo capito che insieme a Asur è possibile ripristinare le situazioni per poter fare eventualmente qualche momento di presentazione o di altro tipo. Quindi ci siamo riservati alcune giornate senza creare difficoltà alla gestione però abbiamo voluto essere utili anche da questo punto di vista avendo questo spazio che è stato recuperato e l'idea di restituirlo un po' alla collettività in termini di servizio. Va precisato che il nuovo hub vaccinale di Pesaro così come quelli di Fano e Urbino non saranno in funzione tutti i giorni ma solo una volta la settimana ciascuno in orario mattutino dalle 8 alle 13. Il ritmo attuale vede infatti appena 50 vaccini al giorno sul territorio però siamo nella fase delle quarte dosi che d'autunno potrebbero avere una risalita oltre che essere particolarmente raccomandate soprattutto per soggetti fragili, immunodepressi e persone over 60. Il nuovo punto vaccinale pesarese apre dunque domani per poi riproporsi venerdì 7 ottobre e nei seguenti tre martedì dello stesso mese. Hub vaccinale che riparte dopo una settimana di particolare rialzo di contagi. Le marche sono al quarto giorno consecutivo sopra i mille casi e in una settimana l'incidenza è passata da 240 a 440 casi settimanali ogni 100.000 abitanti.